Vediamo come prenotare attraverso l'app una nuova partita di tennis. Sostanzialmente l'app è fornita da un logo, il nome del club, prenota, numeri utili e privacy. Cliccando sul pulsante prenota possiamo scegliere se giocare un singolo, un doppio, prenotare delle lezioni o registrarsi ad un torneo. Scegliamo singolo. Ecco che l'app ci chiede di scegliere il giorno del singolo. Lunedì, se è trascorso, ci dirà che non è un giorno disponibile. Dovremo attendere la prossima settimana per poter prenotare. Se andiamo sul giorno corrente, ad esempio oggi, giovedì, e chiediamo di prenotare un'ora, ci dirà che ovviamente occorre prenotare con un anticipo di 24 ore rispetto alla prenotazione. Se torno su una data successiva alla data odierna, dove quindi posso prenotare, seleziono ad esempio venerdì, ecco che ho un calendario di ore disponibili, ovviamente fornite dal tennis club. In questo caso dalle 8 del mattino alle 24. Scelgo l'ora dalle ore 9 alle ore 10, essendo un singolo, prenota. Mi chiederà di inserire ovviamente il nome del giocatore. Potrò inserire sia il nome del giocatore che il nome del compagno di gioco. Ovviamente verrà indicato un numero di cellulare valido, perché verrà contattato dagli amministratori del tennis club. Verificate queste due condizioni, posso premere il pulsante conferma. Nel nome, cognome, eccetera, posso anche e in modo esclusivo digitare il mio codice tessera numero ad esempio 10. Possiamo quindi premere, dopo appunto aver inserito i dati necessari, il pulsante conferma. Ci chiederà ovviamente di digitare il pin comunicato dal tennis club per poter garantire l'integrità del dato e quindi che sia un soggetto conosciuto, diamo l'ok ed ecco che appare un messaggio dove dice Grazie, la vostra prenotazione è stata registrata, una mail è stata inviata al tennis club. A questo punto il responsabile addetto saprà che è stata fatta una richiesta e vi contatterà per una ulteriore conferma. Potete quindi di nuovo tornare sulla pagina principale dell'app ed eseguire ad esempio la prenotazione di un doppio. Tornando sulla schermata principale dell'app vediamo che prenota, singolo, scegli giorno, venerdì, l'ora che abbiamo selezionato non è più inclusa tra quelle disponibili. Quindi ovviamente non sarà disponibile anche per altri soggetti che vogliono prenotare il tennis club. Prenotiamo ora un doppio, clicchiamo sul pulsante prenota, seleziono il pulsante doppio, seleziono il giorno, seleziono venerdì come orario disponibile anche dall'app, seleziono l'orario dalle 13 alle 15, prenota. Ci dice il sistema che abbiamo scelto dalle 13 alle 15, confermiamo o cambiamo l'ora. Diamo l'ok, ci chiede nuovamente chi siamo, il numero da associare e la conferma ovviamente dei dati col PIN che ci è stato fornito sempre dal tennis club. La registrazione anche in questo caso fornirà ovviamente al tennis club la vostra richiesta di utilizzo del campo. Ulteriore caratteristica dell'app è quella di non conservare le informazioni dei contatti e cancella in modo completamente automatico le informazioni raccolte. Grazie a tutti.